Mi era avanzato del cavolfiore e per non cuocerlo nel solito modo ho pensato di preparare una pizza rustica. L'ho tagliato da crudo finissimo, poi l'ho lavato, l'ho messo in padella con un po' d'acqua, olio evo e aglio, poi ho preparato una pasta brisé. Appena cotto il cavolfiore l'ho amalgamato con dei pomodori secchi e delle noci. Ho trasferito tutto nella pasta brisé che avevo già steso e poi per amalgamare il tutto ho messo della farina di ceci. Ho chiuso il tutto con altra pasta brisé e ho messo in forno. Un piatto unico, buono e senza sprechi. Ovviamente potete mettere il tipo di verdura che preferite. Dichoncini Dichoncini Grazie a tutti.